Il successo o meno del codice piantedosi sulle ONG lo certificheranno il tempo e i numeri. I primi dati però vanno nella direzione indicata dal Ministro dell'Interno. Le morti nel Mar Mediterraneo nel primo mese dell'anno sono dimezzate rispetto allo stesso periodo del 2022. Allora furono 119, oggi 65. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, agenzia intergovernativa che fa parte dell'ONU. Sempre tante, troppe, ma almeno in diminuzione drastica. Certo, molti fattori possono influire su questi numeri, dalle condizioni meteo a quelle politiche, fino alla sorte. Un fatto però è certo. Nonostante si sia sensibilmente ridotta la presenza delle ONG nel Mediterraneo dopo l'introduzione proprio del codice di comportamento voluto dal Ministro Piantedosi, il numero delle vittime in mare non è aumentato, come invece sostenevano le organizzazioni non governative e anche diverse forze politiche. Un dato che ricalca in parte quello del luglio 2017. Allora al Viminale sedeva Marco Minniti. L'emergenza in migrazione era drammatica. L'anno prima oltre 4.500 persone avevano perso la vita tentando la traversata. Minniti adottò un codice di comportamento per le ONG simile a quello di Piantedosi attualmente in vigore. In due anni gli sbarchi diminuirono del 92% e le vittime del 70%. In mezzo anche i decreti Salvini, con il segretario della Lega agli interni, calò ulteriormente il dato relativo agli arrivi sulle nostre coste e alle morti in mare. Numeri tornati nuovamente a salire con Luciana Lamorgese. Dai 6.138 sbarchi registrati tra gennaio e settembre del 2019, si arrivò alla punta massima di 75.366 il 15 dicembre 2022. Una settimana dopo assumeva l'incarico Matteo Piantedosi. Il suo codice invece è entrato in vigore ai primi di gennaio. Ad oggi, nonostante resti alto il numero dei migranti che affrontano la traversata, si è ridotto drasticamente quello delle vittime in mare.